Bentornati e se non mi conoscete io sono Jessica, qua sul canale parliamo di tecnologia educativa e creativa e in generale di creatività e di tanto altro. Se mi conoscete già invece come vi dicevo bentornati sono felice che siate qui anche per questo video in cui parleremo assieme, vi farò vedere tutti i miei strumenti anche questa è una carrellata come quella che abbiamo fatto dei robot che sono più di 50 vi rimando al video se volete vederli, sarà una carrellata di tutti gli strumenti STEM possiamo dire così che ho, che ho utilizzato o che andrò ad utilizzare ed approfondire. Quindi tutto ciò che riguarda l'elettronica il tinkering ma non solo quindi c'è tanto di cui parlare soprattutto appunto se siete interessati all'ambito STEM e STEAM troverete tanti riferimenti e tanti suggerimenti. Di questi strumenti alcuni di questi strumenti li ho già approfonditi qui sul canale, altri invece sono completamente nuovi anche per me quindi andrò ad esplorarli. Se volete approfondirli scrivetemelo qua nei commenti quindi mi dite mi piacerebbe approfondire questo strumento che qui sul canale non ho trovato. Benissimo, di tutti quelli di cui ho già parlato vi metto il link al video nell'info box e spero che ci sia tutto perché sono tantissimi anche questi li vedete ancora qui da sistemare alcuni e niente quindi voglio sentire quale vi piace di più così parliamo un pochino nei commenti e senza troppi preamboli vi lascio alla carellata perché veramente molto lunga perché sono tanti tanti questi strumenti ma c'è veramente da divertirsi. Benissimo, buona visione! Ovviamente iniziamo da quelli che mi piacciono di più dei miei preferiti quindi i SEM Labs sicuramente li conoscete ne abbiamo parlato un'infinità di volte ci sono un'infinità di video sul canale sono i blocchetti che si collegano con il bluetooth sono programmabili anche qui abbiamo attuatori e sensori e possiamo farci veramente di tutto li programmiamo con i blocchi a icone con i blocchetti di parole ma anche con altre modalità ad esempio python quindi molto molto belli molto interessanti c'è anche tutta una serie di video lezioni di slide tutto pronto per utilizzarli all'interno delle classi allora qui c'è il creators coding kit che è quello che ha all'interno anche dei pezzettini simili all'ego technique quindi possiamo utilizzarli e inserire i blocchi all'interno proprio di costruzioni di strutture che hanno anche un'ingegneria particolare che ovviamente è quella che decidiamo noi. Sono sempre gli stessi blocchetti all'interno di tutti i kit ma i diversi set sono pensati per scopi diversi qui ci sono due alfa kit uno è l'alfa kit stem o stem e gli alfa kit sono per il lavoro a individuale o a coppie poi ovviamente ci sono tutti i set grandi che sono quelli per la classe dove ci sono gli stessi pezzettini degli alfa kit ma ripetuti dieci volte quindi abbiamo i nostri vassoietti e in ognuno dei vassoietti c'è quello che troviamo all'interno dell'alfa kit ad esempio qui nell'alfa kit stem abbiamo tutto quello che serve guardiamo si lo vedete per la creazione ad esempio della macchinina ma per tanto altro quindi ci sono i motori c'è il sensore di luce e il buzzer ad esempio e questo è appunto come primo approccio alle stem e in generale ai blocchetti semelapse invece l'alfa kit e il set per la classe learn to code all'interno anche il microbit e ci serve e quindi ci sono anche le lezioni relative per imparare la programmazione quindi è focalizzato proprio sulla programmazione e anche le lezioni ci seguono e seguono i ragazzi nella scoperta della programmazione il maker kit questo lo vedete in versione 2 è grande quindi è una valigetta ma non è per tutta la classe anche questo è per un gruppo è pensato per il lavoro di sei ragazzi e ragazze ovviamente e qui ci sono tutti i blocchi possibili quindi tutti i semlapse i blocchetti che sono stati creati adesso è un po in disordine però forse riuscite a vederlo ugualmente ve lo faccio vedere qui perfetto ci sono vediamo esatto tutti i blocchetti che voi potete andare ad utilizzare e creare ovviamente tutto quello che volete integrando i diversi blocchetti quindi le vostre creazioni le creazioni dei vostri studenti diventano completamente interattive anche qui nella versione 2 c'è microbit quindi vi potete divertire anche con quello è molto molto creativo quindi per l'attività di making è perfetto per quello che si chiama maker kit poi qua di fianco vedete la serra la green house anche questo è un set a parte anche se integra il maker kit e assieme al maker kit trovate altri diciamo così strumentini all'interno quindi ad esempio il misuratore di umidità perché serve per rendere la serra interattiva questo della serra è molto interessante perché è un progetto che è nato proprio all'interno di una delle scuole e che integrava appunto il maker kit v2 all'interno di una realizzazione di questo tipo creata con il taglio laser ed è stato poi prodotto quindi samlabs ha prodotto in larga scala ciò che era stato creato all'interno di una scuola anche della serra c'è il video poi vi faccio vedere tre reperti particolari perché non sono più in vendita diciamo così però sono quelli con cui ho iniziato a conoscere samlabs questi due set li avevo acquistati o ritrovati all'interno di kickstarter quindi abbiamo iniziato da lì questo è proprio il set di base 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 questo era il science museum quindi c'erano alcuni blocchetti un po diversi e questo invece è stato quello che ho acquistato per primo e poi è stato un po diciamo così rivisto all'interno dell'alpha kit steam che vi ho fatto vedere prima era sam's curious car aveva la propria applicazione che è diversa da quella che c'è adesso però li tengo funzionano ancora ovviamente li tengo perché sono un ricordo sono un po un po tre reperti storici adesso tutto quello che trovavamo qui è stato rimaneggiato e rivisto all'interno delle dei set moderni contemporanei di samlabs questo è piper è un computer da assemblare molto molto carino e è semplicissimo assemblarlo adesso ve lo faccio vedere direttamente dentro e diventa proprio un computer utilizzabile all'interno ovviamente c'è la schedina programmata e programmabile ma soprattutto ci sono dei giochi che permettono di capire come funziona l'elettronica all'interno del computer e come funzionano i computer in generale si possono attaccare anche diversi componenti aggiuntivi in base al livello in cui ci si trova all'interno del gioco poi sarà il gioco stesso che spiegherà e come è necessario fare per collegare diversi componenti appunto molto molto interessante anche per i ragazzi per i bambini perché ci permette proprio di capire esattamente cosa c'è all'interno di un dispositivo di questo tipo si monta tutto e quindi piano piano si capisce proprio come funziona stesso principio per cano che è sempre un computer kit quindi all'interno possiamo trovare sempre tutti i componenti per creare il nostro computer in questo caso non c'è la parte esterna di struttura come per piper ma lo colleghiamo lo attacchiamo alla televisione in questo caso abbiamo tutti appunto i componenti che ci servono per cominciare a lavorare cominciare a giocare abbiamo la tastiera il mouse e soprattutto abbiamo la schedina in questo anche in questo caso è un raspberry che ci aiuta a utilizzare tutto ciò che c'è dentro e quindi ad avere un piccolo computer a portata di mano non c'entrano proprio appieno appieno con l'elettronica pura ma ci siamo vicini osmo è uno strumento per ipad che si può aggiungere al nostro ipad è questa lente che ci permette di inquadrare ciò che c'è sul tavolo e quindi poi di giocare con tutto ciò che abbiamo di tangibile sul nostro tavolo ovviamente in base ai giochi che abbiamo acquistato qui ce ne sono tre uno sulle lettere uno sui numeri e uno sulle forme questo che vedete invece è sul coding qui ci sono le tesserine programmabili le mettiamo sul tavolo le inquadriamo e ovviamente all'interno dell'app proprio di osmo in questo caso coding succede ciò che noi abbiamo programmato quindi vengono eseguite le operazioni che abbiamo deciso di fare questo in modo particolare è molto interessante ovviamente oltre che per l'elettronica anche per il coding per tutti i giochi osmo andiamo a lavorare quindi sia sul digitale che sul analogico c'è questa contaminazione tra i due mezzi e quindi è interessante per questo e andiamo con altri dei miei prodotti preferiti in questo caso vedete abbiamo microbit che è una schedina conosciutissima ovviamente programmabile anche questa potremmo dire di prototipazione anche se facilitata in questo caso vedete abbiamo un set di base perché abbiamo la schedina con batteria e cavetto soltanto e basta microbit ne abbiamo già accenato qua sul canale nei prodotti a basso costo diciamo così ma voglio farvi probabilmente una serie per approfondirlo e qua abbiamo in questo caso un inventor's kit ce ne sono tanti che si possono collegare a microbit o microbit e quindi ci sono tutti i componenti per fare degli esercizi e delle attività che sono contenuti all'interno qui ce ne sono 50 sono i soliti classici componenti elettronici per i circuiti e in più c'è questa schedina che è questo slot che permette di collegare microbit e poi di aggiungere ovviamente gli elementi alla breadboard e quant'altro per quanto riguarda microbit o microbit ditemi come si dice secondo voi abbiamo anche newbit che è sempre un porta microbit con il suo schermino e i pulsanti che ovviamente corrispondono a quelli di microbit quindi microbit si inserisce all'interno in questo caso c'è già e poi lo si può programmare e si può giocare si può collegare questo anche con i diversi giochi che creiamo con make code perché essendoci lo schermino possiamo vedere quello che abbiamo programmato e giocare direttamente con i pulsantini che ci sono all'interno quindi interessante per chi lavora anche con make code e anche questo ve lo farò vedere perché è fantastico collegato sempre a microbit che vi ho fatto vedere un attimo fa ho anche questa versione di futura elettronica dello starter kit questi sono tutti i componenti necessari per creare diverse attività con anche il nostro manualetto all'interno che ci permette proprio di capire come utilizzarlo vedete qua abbiamo i cavetti portabatteria il cavo usb la breadboard 400 contatti 60 jumper e tanto altro motorino e molto altro che vanno collegati ovviamente al microbit e poi all'interno c'è il manualetto eccolo qua questo i diversi componenti e qua il manuale con tutte le attività applicazioni pratiche per utilizzare la scheda forse non vedete niente ecco adesso lo vedete un po' meglio ho fatto un'inquadratura stranissima poi non ci spostiamo troppo perché è sempre di interazione parliamo e qui infatti vedete mechi mechi qui c'è una delle primissime versioni con la scatolina verde poi è comparsa la nostra scatolina rosso di mechi mechi particolare qui sostanzialmente è la stessa cosa quindi abbiamo due set quasi di base in cui troviamo all'interno la schedina cosa succede con mechi mechi anche di questo c'è un video vecchissimo sul canale che ho girato tutto al buio non so come mai questa schedina può essere collegata al computer e poi attraverso ovviamente cavetti e tutti i componenti magari con materiali conduttivi che andiamo ad utilizzare ad esempio la pasta conduttiva e la grafite e tanto altro possiamo interagire appunto possiamo lavorare con le frecce con il tasto spazio invia e quant'altro quindi lavoriamo con interagiamo con materiali tangibili andando a lavorare però con programmazioni magari ad esempio con scratch che abbiamo creato con il nostro computer quindi anziché utilizzare i tastini appunto della tastiera andiamo a toccare questi materiali e queste strutture che abbiamo conduttivi per interagire con i nostri giochi e questa è la versione come vi dicevo standard e vi ho parlato sul canale anche della versione go che era molto interessante perché vedete che anziché con il cavetto qui avevamo proprio un mechi mechi a portata di mano perché c'era direttamente l'usb che si poteva collegare al computer e poi qui andavamo a collegare tutti i nostri materiali conduttivi e potevamo interagire possiamo interagire di mechi mechi go c'è addirittura un video in inglese queste non sono niente sono i componenti aggiuntivi questa è solo una scatolina di per portarlo in giro in un modo un po più fashion e poi qua c'è il booster kit con altri componenti aggiuntivi c'era il nastro conduttivo e tanti altri cavetti coccodrilli alligatori come si suol dire per collegarlo alle nostre invenzioni conduttive passiamo a dei circuiti molto interessanti e particolari perché sono circuiti disegnati in questo caso questi prodotti sono quelli di circuit scribe e si tratta di un di pennine con un inchiostro particolare perché è un inchiostro conduttivo avendo un'altra percentuale in questo caso se non sbaglio di argento per quanto riguarda circuit scribe e all'interno dei diversi set ci sono in numero diverso in questo caso 17 in questo caso 48 e qua come vedete tre questi componenti che si vanno a attaccare attraverso delle calamite al nostro foglio al centro mettiamo il foglio e poi con la pennina con questo inchiostro particolare andiamo a disegnare i diversi circuiti quindi sarà il nostro filo sostanzialmente ovviamente in base al tipo di filo che andiamo a disegnare come lo posizioniamo faremo un circuito piuttosto che un altro quindi questo è tanto tanto interessante perché appunto anche in questo caso non dobbiamo saldare non dobbiamo andare a creare dei circuiti in modo strano e complesso non così strano in realtà ma è senz'altro in modo più complesso quello dobbiamo soltanto disegnare e creiamo quello che ci piace di più questo inter molto molto interessante per capire appunto come sono i diversi circuiti come possiamo collegare serie in parallelo i diversi componenti e qua ci divertiamo tanto perché di componenti ce ne sono veramente molti soprattutto nelle nei set più grandi e parliamo sempre di circuiti disegnati in questo caso dipinti con questo set di bear conductive ce ne sono tanti anche di set di bear conductive abbiamo anche soltanto il bear conductive da solo quindi sia nel barattolino in questo caso proprio è una tempera che con il pennello si può stendere qui abbiamo invece la pennina diciamo così in questo formato ma è sempre la stessa tempera all'interno qui abbiamo un'altissima percentuale di grafite c'è anche la ricetta per farsene in casa in realtà al bear conductive alcuni set alcuni kit come questo però ci permettono sì di creare di disegnare quindi i nostri circuiti utilizzando appunto questo questa vernice conduttiva come base ma qui abbiamo anche la schedina programmabile e quindi attraverso il software di programmazione possiamo dire anche quando si devono accendere i diversi componenti e cosa devono fare quindi noi andiamo a creare i nostri circuiti possiamo utilizzare anche led e componenti vari che utilizziamo solitamente nei circuiti ad esempio con arduino anche senza schedina di prototipazione ma qui abbiamo la vernice conduttiva e in più la schedina programmabile quindi possiamo rendere interattive delle pareti dei piani i nostri oggetti ci andiamo a disegnare sopra dipingere sopra con questa vernice conduttiva e loro diventano sensori e i nostri oggetti possono prendere vita diciamo così e continuiamo con i circuiti un po particolari perché in questo caso sono circuiti cuciti ce ne sono di diversi tipi per quanto riguarda i diversi set anche qui sul canale ne abbiamo parlato diversi volte dei circuiti cuciti con un kit che però non vi ripropongo perché quello sono sicura che non c'è più invece questo lo possiamo ancora trovare in questo caso addirittura non solo all'interno abbiamo un filo che è conduttivo e sono fili fatti apposta che possiamo utilizzare per creare proprio i nostri circuiti cuciti con led pulsantini interruttori e quant'altro ma questo all'interno anche lillipad che è una piccola schedina è una sorta di mini arduino che possiamo andare ad integrare all'interno dei nostri circuiti cuciti che quindi diventano anche programmabili quindi ancora più interessante diciamo del solo circuito cucito che possiamo utilizzare come base trattandosi di circuiti cuciti ovviamente possiamo inserirli all'interno dei tessuti in questo caso vedete ad esempio del feltro ma tanto altro perché diventa veramente molto molto versatile ecco ci sono tante possibilità che possiamo sfruttare little bits e qua si apre un mondo perché probabilmente li conoscete anche qui sul canale ne abbiamo parlato tanto di little bits molti anni fa in realtà di che cosa si tratta sono diversi modulini che si collegano tra di loro per creare dei circuiti ovviamente con funzioni diverse in base al modulino che andiamo ad inserire all'interno ce ne sono alcuni diciamo così generici di base di questi set quindi abbiamo ad esempio il premium kit e il deluxe kit che hanno tutti i loro componenti all'interno adesso stavo guardando questo ad esempio cosa abbiamo lo slider il quello per il suono il pulsante qui il bottone servo motore ne abbiamo tanti tanti davvero per imparare che cosa sono i circuiti ma soprattutto per creare in modo semplice dei circuiti che possano funzionare e ci permettano di se inseriti all'interno di oggetti di animare i nostri oggetti e questo è molto importante poi ci sono alcuni set specifici che riguardano delle aree in particolare ad esempio qui abbiamo il cloud per l'internet delle cose e l'arduino coding kit che si può collegare in questo caso ad arduino e ci possiamo giocare creare qualcosa in più senza la necessità di utilizzare fili senza la necessità di saldare e così via avendo già dei blocchetti appunto che si collegano tra di loro senza fatica e in due secondi abbiamo il nostro circuito con tanti componenti diversi sicuramente lo conoscete perché è stato uno dei primi adesso si usa un pochino meno però è sempre uno strumento molto interessante e cominciamo una carrellata di strumenti che ci permettono attraverso dei blocchetti facilitati di creare i nostri circuiti un po' come abbiamo visto come light motive negli strumenti precedenti qua ce ne sono tanti di set simili anche tra di loro allora qui abbiamo mcookie vedete sono questi cookies vengono chiamati che si possono collegare tra di loro sia attraverso i fili ma anche sovrapporre uno sull'altro perché ci sono proprio i pernetti che vanno a collegarli tra di loro questi sono dei set con i diversi blocchetti con appunto i diversi componenti all'interno adesso qui ad esempio abbiamo quello il suono il buzzer poi abbiamo l'interruttore abbiamo il pulsante e tanto altro meno le stesse cose interruttore e pulsante ma quello che vedete dietro è sempre un set mcookie micro duino interessante perché gli stessi cookie che troviamo qui nei set generali possono essere inseriti all'interno di slot specifici e poi collegati ai mattoncini simili a lego e quindi qui possiamo integrare proprio questi componenti non solo all'interno delle nostre creazioni ma anche all'interno di creazioni costruite con i tbt city ad esempio abbiamo la possibilità di creare proprio una città intera interattiva e quindi far passare ad esempio le macchinine con i nostri sensori e la città si accende comincia a illuminarsi e a suonare e tanto altro stesso principio con brixo anche in questo caso abbiamo tanti componenti diversi ad esempio qua abbiamo i led abbiamo la batteria e altri collegamenti e questi sono proprio già all'interno di mattoncini che si si collegano tra di loro si montano tra di loro appunto similego e sono anche compatibili con il lego quindi possiamo andare a fare diversi collegamenti i nostri diversi circuiti elettrici e integrarli nelle nostre creazioni poi abbiamo boson di df robot anche in questo caso è lo stesso principio quindi andiamo a creare i nostri circuiti incastrando e collegando tra di loro i diversi componenti e qua ne vedete alcuni li possiamo integrare in questo caso all'interno dei diversi oggetti quindi andiamo proprio a clippare ci sono delle clip che ci permettono di andarle di inserire ad esempio nelle nostre creazioni di carta di cartoncino di cartone tessuto e quant'altro ovviamente questi li colleghiamo tra di loro diamo con la batteria il via a tutto quello che che può succedere e quindi andiamo a rendere interattive le nostre creazioni ci sono set diversi con colori diversi li vedete in questo caso abbiamo il science kit coding kit e inventor kit e ciò che è diverso è il tipo di componente che troviamo all'interno anche questi tra di loro si devono collegare attraverso i fili in questo caso non comunicano ad esempio attraverso il bluetooth come fa invece Sam Labs passiamo a make block che se avete visto il video dei robot sapete che non manca in realtà nella mia collezione e qui abbiamo neuron o neuron ho sempre dei dubbi sui nomi degli strumenti anche qui abbiamo i nostri componenti vediamo se riesco ad aprirlo magari questo intanto che ve ne parlo abbiamo i nostri diversi componenti eccolo qua che possono essere collegati tra di loro anche qui per facilitare il lavoro abbiamo ecco qui dei blocchetti che sono già completi ecco qui guardate che belli questi e qui li colleghiamo con i loro fili quindi uno attaccato all'altro così come succede per little bits ma abbiamo dei fili lunghi quindi non sono appiccicati uno all'altro per forza possiamo anche distanziarli un po' e questo quando li andiamo ad inserire all'interno delle nostre creazioni ovviamente cambia molto ciò che possiamo fare e i circuiti che possiamo creare perché possono essere componenti anche a distanza tra di loro possono essere distanti e per quanto riguarda neuron o neuron all'interno dei diversi set ci sono spesso e altri componenti creativi che ci permettono già di avere tutto il necessario per le diverse attività altro set simile in toino non so in realtà se lo producano ancora io l'avevo acquistata direttamente ad una maker fair è un prodotto italiano e quindi mi pareva carino anche dare una possibilità in più a questi a questi prodotti anche qui avevamo già dei componenti particolari da collegare ad arduino che quindi non necessitavano insomma una saldatura in questo caso e quindi potevamo poi facilmente collegarle alla nostra schedina di prototipazione e programmare il tutto c'erano anche diverse attività e un'applicazione che ci permetteva di comandare i diversi componenti e di programmarli e visto che abbiamo parlato di arduino allora intanto vi faccio vedere i set proprio di questo strumento qua trovate vedete lo starter kit in questo caso di genuino non mi so fermo sulla diatriba arduino genuino quindi lasciamo stare ma è la stessa cosa qui troviamo il set standard quello proprio starter quindi con il libro che è bellissimo ormai l'ho consumato questo libro la schedina all'interno e tutti i componenti che ci possono servire la breadboard e tanto altro per portare a termine tutti i progetti che ci sono all'interno del libro dei progetti lo abbiamo sfruttato tanto nella serie dedicata proprio ad arduino vi rimando a quella serie per vedere tutti gli errori che ho fatto e che mi avete corretto ma abbiamo imparato assieme e però lo tengo sempre vicino perché è proprio molto è fatto benissimo è molto interessante se vogliamo approfondire questo strumento questa scheda di prototipazione qui abbiamo un altro set collegato ad arduino che permette di creare un robot quindi ci sono tutti i componenti e ci sono anche le attività all'interno per creare il robot con alla base arduino adesso sono usciti altri set nuovi di arduino il robot alvik e il plug and play plug and make plug and make probabilmente e vi li presenterò faranno parte a breve della mia collezione qui abbiamo il tinker kit che come intuino che abbiamo visto prima anche qui ci fornisce tutti i componenti senza la necessità di saldarli dobbiamo solo andare ad inserire all'interno della breadboard o collegarli eventualmente con coccodrilli o altro direttamente alla scheda arduino che poi ovviamente si può programmare poi altri kit sempre per lavorare con arduino abbiamo lo student kit che è proprio quello di arduino pensato con attività specifiche per i ragazzi per gli studenti e qui all'interno abbiamo arduino con tutti i componenti ma soprattutto quello che ci interessa sono le attività che ci vengono proposte e ci viene spiegato come andare ad utilizzarle qui più o meno con lo stesso livello abbiamo il beginner kit di f robot abbiamo visto prima con un altro strumento in questo caso anche qui è tutto per arduino all'interno troviamo i diversi componenti e le attività con le varie schede questo è molto molto interessante perché troviamo le schede per creare i nostri circuiti e poi ovviamente andiamo a seguire le attività con tutti i diversi componenti sono interessanti questi kit perché possiamo già seguire i suggerimenti che ci vengono dati all'interno e siamo sicuri di avere tutto già quello che ci serve non dobbiamo andare a recuperarlo chissà dove stesso principio anche l'edu kit 01 di futura elettronica questo se non sbaglio non ha l'arduino all'interno ma è aggiuntivo quindi lo prendiamo anche qui c'è il manuale d'uso quindi con le diverse attività che possiamo vedere sono attività che via via ci permettono di scoprire le diverse possibilità di arduino e abbiamo tutti i componenti per portare a termine le nostre attività led resistenze fili e tanto altro e finiamo forse per col dubbio di essermi dimenticata qualcosa con i set di circuit mess probabilmente l'avete visto su instagram perché ci sono diverse pubblicità e sponsorizzate che che escono molto spesso in questo caso abbiamo la possibilità con kit piccolini di iniziare a lavorare con i circuiti vedete qua delle kit proprio piccoli piccoli proprio per cominciare con led pile e poco altro ogni set ha le proprie caratteristiche ad esempio qui c'è il buzzer ma sono sempre molto semplici come circuiti proprio per capire come funzionano i primi circuiti abbiamo tutti i tool compreso quello che ci permette di saldare anche diversi componenti all'interno di uno dei set che ci può arrivare direttamente da circuit mess e poi ne abbiamo alcuni che sono un pochino più avanzati ad esempio questo può essere proprio programmato allo schermino che ci permette di vedere i giochi che andiamo a programmare e le programmazioni che andiamo a creare e anche questo lo dobbiamo ovviamente prima costruire assemblare e in questo caso saldare perché funzioni sono molto interessanti e ce ne sono tanti ce ne sono sempre di più di attività dalle più semplici alle più complesse se siete interessati magari provo a cominciare a saldare assieme a voi non l'ho mai fatto le ragazze dei club di girls could eat better saldano che è un piacere io non ho ancora non ho ancora iniziato a farlo non l'ho ancora provato fatemi sapere se volete che lo facciamo assieme ecco qui questi erano tutti i miei strumenti stem elettronica e affini quindi ditemi che cosa ne pensate qual è il vostro preferito e se per caso volete approfondirne qualcuno e volete che approfondisca assieme a voi qualcuno di questi strumenti sarò ben felice di farlo vi ricordo che nella descrizione qua sotto al video ci sono i link ai video che ho fatto anche di approfondimento di alcuni di questi strumenti non di tutti così potete già andarli a vedere e vi divertite a sistemarli e a guardare un pochino se possono essere possono fare il caso vostro vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video vi do appuntamento qui sul canale per parlare assieme a me di tecnologia educativa e creativa e di creatività in generale un bacione ciao